Eccomi di ritorno dopo un periodo in cui mi sono fatto da parte per permettere a Rock Targato Italia di allestire il suo concorso e di ricevere tutti i video dei partecipanti che troverete appunto nel canale che ovviamente è cresciuto molto in quanto iscritti. Sigla! Vi ricordo che questa rubrica nasce per compilare una playlist che si chiama Canzoni Emergenti Italiane dal 2020 presente su questo canale e su Spotify con lo stesso nome. L'ultima puntata di questa mia rubrichina aveva visto la Profondi Venti su Margherita Vicario e quindi avevo raccontato un po' la storia. E proprio da qui ripartiamo perché il primo pezzo dopo la pausa è proprio di Margherita Vicario e si chiama Come va? Dunque dopo Giubbottino che è il primo brano che ho messo nella playlist di Margherita Vicario e dopo Pincio c'è questo Come va che assomiglia di più a Pincio che a Giubbottino. Ma questo consentirà al sottoscritto per una regola che mi sono auto-inflitto di provare di tentare l'intervista a Margherita Vicario. Speriamo di riuscirci. Comunque stiamo sul pezzo, nel senso proprio del pezzo, del brano. Come va? Si parte dall'espressione Come va? Spesso utilizzata in maniera formale, non per un reale interesse, tant'è che poi si è consolidata anche la reazione formale e senza una vera convinzione su come si sta. Per quanto riguarda la risposta a questo che è diventato un intercalare. Ovviamente le relazioni tra le persone non è che devono andare per forza tutte in profondità, possono assestarsi su un certo livello di formalità appunto, tipo le relazioni al lavoro. Quanto però potrebbe essere importante dichiarare tutti i rospi che si stanno ingoiando per migliorare questo tipo di relazioni e anche per migliorare la propria vita interna a se stessi? Cosa sto dicendo? Venendo alla musicalità, questo brano dimostra ancora una volta la capacità di comporre melodicamente la parte vocale da parte di Margherita Vicario con certi virtuosismi che non sono soliti trovare, soprattutto in un momento in cui la fada padrone è il rap, che spesso è quasi uno strumento ritmico. Mentre qui c'è proprio un cantato con tanta melodia, tanto diversa da una parte all'altra, che riempie molto musicalmente tutto il pezzo. Questa volta la strumentale si sposa bene e flerta bene appunto con la voce di Margherita. È una base musicale che si mette al servizio proprio di questa versatilità vocale e interpretativa. Il secondo brano è di Comacose e si chiama La canzone dei lupi. Io sono un fan di questo progetto musicale, li abbiamo visti di recente a Sanremo. Tornano con questo brano dove parte nella strofa lui con una personalità a cui ancora non ci aveva abbastanza abituato. È pur vero che quel in fondo che lascia iniziare la melodia da parte invece di California, la cantante, fa venire i brividi. Però, insomma, c'è un meno distacco per quanto riguarda il mio ascolto tra la resa di lui e la resa di lei. Come invece poteva essere in qualche canzone fa dove lui era quasi al servizio e lei invece era la vera protagonista. È ancora così ma lui sta prendendo piede. Bene perché la voce maschile importante in questo progetto alla lunga diventa fondamentale. C'è un interessante sviluppo nel testo che talvolta è più poetico, talvolta è più prosaico, ma funzionano bene queste due sfaccettature per raccontare la quotidianità, anche qui, di una relazione. I suoni sono elettronici, sono un po' retromaci, stanno bene. La canzone tratta di una vicinanza che si ha tra loro che si sentono in un micro universo e i lupi che sono indomabili, che vanno in branco anche loro in un micro universo, di solito distaccati dagli altri animali e dagli esseri umani. Peter White, Gibson, Rotte. Questa è una storia interessante. La prima volta che ho sentito il brano all'inizio, questo modo di cantare cadenzato che va molto nei trapper, mi hanno fatto il cazziatone e mi hanno detto che non si dice trapper che lo si dice solo in Italia. Però famosa capire, no? Quelli che fanno la trap, quindi questo stile un po' così moscio eccetera eccetera, alla lunga mi fa ridere. Mi sembra un po' che si copino l'uno con l'altro. E quindi ero pronto per farmi una grande risata e mettere questo brano nella rubrica Controventi, dove ci sono i brani appunto che mi fanno ridere per un motivo o per l'altro. Non necessariamente volontariamente. Invece, arrivando in ritornello e continuando nell'ascolto, ho scoperto una potenziale it estiva di quelle, però da gruppo di amici che scopre un brano, non di quelle sparate a cannone dalle radio, piene di product placement. Quest'anno l'ho fatta sportissima, mi meraviglio di lavoro. Ad ogni modo, il ritornello diventa un mantra che si ripete tre o quattro volte all'interno del brano, crescendo proprio di potenza e veramente attaccandosi alle orecchie dell'ascoltatore, che inizia quasi a canticchiarlo prima che la canzone sia finita. Purtroppo questo capita anche con la hit ufficiale estiva, che mi potrei colpire a pugno e non uscirebbe dalla mia testa. Quindi la cosa importante è riempirsi la testa di altra musica autoselezionata e chiudere tutte le finestre per non sentire gli stabilimenti balneari, a risparare la Coca-Cola, eccetera, eccetera, l'H24, o BBK, o l'Elettra, le robe l'arte. Io spero invece che Gibson Rotte venga rivalutata in un futuro prossimo, anche grazie a TikTok magari, che ti posso dire? BOOX! Cosa te ne fanno i manuschi? Decenti. Chiudo.